vorrei provare secondo te nel greto del fiume lì andiamo su per il bosco lì per quel sentiero lì allora uno bisognava andare forse lassù se trova una pastura dopo e vai su quello fa se li molliamolo ma aspettiamo un attimo forse qui è tutto buono non so poter sesso ma che buono su me perché noi non l'abbiamo ammazzata quel bosco lì è sempre stato buono spero guardare anche in teglia prima di andare su a guardare un po' in teglia nelle ghiaie fa di dare una fiatta qua nel campo in questi due campi qui perché se trovano pastura qua vediamo cosa succede dai 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.